Sì, è la fine del mondo. Ci siamo rifugiati qua, io, Miche e Luglione. Facciamo subito vedere, dopo anche il Mellis. Anche il Mellis. Ci siamo rifugiati perché alla fine del mondo ci sta distruggendo tutto. Dicevano che arrivava nel 2012 invece è arrivata per primo marzo del 2008. Senti che vento! Alle ore? Senti, senti. Alle ore? 13 e 17. 15 e 17? No, 15 e 27. Inizio 27. Inizio 27. Ah, è finito. Vuoi dire qualcosa? Qualche ricordo? Addio! Penso di mai andare. Se quando qualcuno troverà questo nastro non lo saprà meglio di me. Se chiudere! Hoi! Hoi!